Lo short selling, ossia la vendita allo scoperto. Con questa pratica è possibile guadagnare non solo se le azioni salgono, ma anche se scendono. Lo short selling ha sempre attirato a sé tantissime attenzioni, tant'è che è stato pure oggetto di tantissimi film. La grande scommessa, o in inglese The Big Short, ruota tutto intorno ad un'operazione ribassista. Stesso discorso per una poltrona per due, credo l'abbiamo visto tutti almeno sette volte, fino ad arrivare anche al documentario, molto bello a mio avviso, Betting on Zero, che racconta lo short di Bill Huckman sull'azienda Herbalife. Ma perché lo short selling, perché la vendita allo scoperto ha così tanto fascino? Cosa c'è di così tanto speciale? Ma soprattutto se voi siete investitori, quando ha senso farlo al meglio? Quando è meglio non farlo soprattutto? E che strumenti usare? Vediamo tutte queste cose, ma dopo la sigla. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e prima di iniziare, avete mai shortato un'azienda? Se sì, com'è andata? Scrivete tutto qua sotto nei commenti. Come ho detto nell'introduzione, spesso lo short selling è al centro di dibattiti che però non c'entrano nulla con l'aspetto finanziario. Vediamo un attimo entrambe le posizioni. Da una parte abbiamo chi ritiene lo short selling poco nobile o addirittura dannoso. E non stiamo sicuramente parlando dell'Italia, della sola Italia con chissà quale influenza cattolica. Sono pareri che vengono anche dagli sporchi capitalisti americani, quindi non è solo una cosa nostra. Anche se puntualmente ci sono quelli che dicono che Soros affossa l'Italia e cose simili ed è molto divertente leggere quelle cose. Comunque chi sostiene queste cose tipicamente vede un po' l'investimento come un tifo, proprio come allo stadio in cui se investi in un'azienda tutti gli effetti la stai sostenendo economicamente. Sempre secondo queste persone invece essere ribassisti significa quindi andare contro un'azienda, sperare che questa vada male. In un certo senso sì, è più o meno così, però non è secondo me il modo giusto di approcciare l'investimento né rialzista né tanto meno ribassista. Il grande problema dello short selling a mio avviso è più una questione di rischio, quindi lo riporto un attimo sul piano economico. Sperare infatti di riuscire a vendere nel momento esatto in cui un'azienda passa dall'essere una grande azienda con grandi valutazioni, premiata dal mercato, a un'azienda pessima, schifosa, detestata dagli investitori, è molto molto improbabile. Dall'altra parte invece abbiamo il motivo per cui lo short selling suscita così tanto fascino e così tanto attrattiva. Ed è probabilmente il fatto che spesso ci si ritrova in una minoranza. Storie come quella di Michael Burry, che appunto avrete visto sicuramente nella grande scommessa, che lo rappresentano sostanzialmente da solo contro tutti, portano le persone un po' a empatizzare, a rivederlo in una sorta di Davide contro Golia. In quei casi infatti è come se ci si dimenticasse che Michael Burry a tutti gli effetti sperava che il mondo si accorgesse che l'economia era, beh, precaria e che quindi tutto iniziasse a crollare. Lo si vede più come una sorta di reglietto, eroe solitari, una sorta di Batman. O muori da value investor o vivi tanto a lungo da diventare uno short seller. Dovrei tatuarmelo. Lasciate perdere il fattore etico, sia che siate pro o contro lo short selling. Semplicemente perché, come ho già detto nel video sull'investimento etico, ve lo lascio qui in alto, l'etica è qualcosa di soggettivo, cambia da persona a persona, cambia nel tempo. Quindi non riuscirete mai a conciliare l'etica con l'etica di tutti. Personalmente non mi ritengo né un benefattore, se investi in un'azienda, né un diavolo sceso in terra se ne decido di shortare una. Semplicemente lo faccio per una questione economica. A quello servono i mercati. All'azienda servono per finanziarsi, a noi investitori per guadagnare. Punto. Non ci sono altri aspetti. Discorso diverso però per l'attivismo. Se infatti io, voi, ci limitiamo a shortare un titolo, è un discorso. Se invece io iniziassi da domani ad affossare un'azienda a livello mediatico, a mettere in evidenza un sacco di cose che non vanno, allora in quel momento sarei una sorta di attivista. In quei casi, infatti, certe persone o fondi, il più delle volte, non si limitano a posizionarsi al ribasso, ma vogliono far sapere al mondo perché lo fanno, mettono in evidenza punti che non vanno nell'azienda, a volte denunciano delle frodi. Betting on Zero, ad esempio, racconta, come ho detto, l'operazione ribassista di Bill Huckman, un'operazione molto consistente, stiamo parlando di circa un miliardo, vado a memoria. E quel documentario è stato finanziato, almeno in parte, da Bill Huckman, proprio con l'intenzione di far vedere al mondo quanto non funzionasse, secondo lui, Herbalife, e appunto cercando di affossare il titolo. Quello è attivismo, lì posso capire l'aspetto etico, posso capire chi dice Herbalife fa schifo, è giusto così, Herbalife invece è un business lecito, non ha senso fare quel tipo di documentario, è sbagliato. Lì possiamo effettivamente ragionarci, però non è l'oggetto di questo video. Non è infatti un segreto che vengano spesso messe in giro notizie anche gonfiate proprio con lo scopo di far scendere un titolo, o per guadagnarci sull'operazione ribassista, o per entrare a dei livelli più bassi. A volte queste notizie sono gonfiate a fin di bene, a volte no. Giusto per fare un esempio positivo, Muddy Waters già a febbraio denunciò la King Coffee, dichiarando che era ribassista e solo due mesi dopo tutte le loro tesi su quanto fosse fraudolenta l'azienda si rivelarono vere. E quindi chi avesse ascoltato allora Muddy Waters oggi si sarebbe risparmiato grandissime perdite, o nel migliore dei casi avrebbe addirittura fatto un sacco di soldi. Lasciamo perdere appunto l'attivismo che è decisamente al di fuori della nostra portata e concentriamoci sullo short che possiamo fare noi. Partiamo con una cosa che voglio che sia molto molto chiara, quindi statemi bene a sentire. Quando non shortare un'azienda? La risposta è molto molto semplice. Quando un'azienda piace. Cosa intendo con piacere? Beh, quello dipende un po', può essere un'azienda che piace perché cresce molto, perché è profittevole, può essere un'azienda che piace semplicemente perché è cresciuta in borsa. Quindi magari, sì, il sottostante fa schifo, però continua a crescere sulla bocca di tutti perché sembra avere chissà quali prospettive. Non è importante il motivo. Se però un'azienda piace, non la shortate. Mai. E da come ve lo racconto, sono sicuro che alcuni si staranno chiedendo, ma perché mai dovrei? E per rispondervi devo purtroppo tirare in ballo uno dei punti oscuri del value investing, che è la filosofia di investimento che adotto il più delle volte io. Ossia ritenere che se un titolo è sopravvalutato, anche di molto, a breve scenderà e tornerà ad essere lo giustamente valutato. Non è così. Value investing, infatti, è sì, investire in un'azienda quando il prezzo è al di sotto del suo valore. E lo si fa perché si ritiene che nel lungo periodo il prezzo si riavvicinerà al valore e quindi realizzeremo un guadagno anche grazie a questa sottovalutazione. Nel lungo periodo, non nel breve periodo. Se ad esempio io nel 2000 avessi reputato Tiscali troppo cara perché non aveva prospettive, secondo me, perché era iper sopravvalutata, ok, a 7,2% potevo shortarla. Benissimo. Dopo solo 5 giorni avrei perso il 30%. Però potevo sempre riprovarci, in fondo se era sopravvalutata a 7 lo era anche a 9, allora ci potevo riprovare. Dopo qualche altro giorno però Tiscali era arrivata a 13. Allora uno ci poteva riprovare di nuovo. Boom! 80% di perdita. Ultimo tentativo? La fine. Dopo due mesi aveva raddoppiato di nuovo. Ci sono voluti infatti due anni per far passare Tiscali da 50 a 2. Un potenziale guadagno per uno short seller del 95%, ma solo per quegli short seller che avessero appunto preso l'operazione proprio ai massimi assoluti. Una cosa molto molto difficile e improbabile da fare. Ci sono un sacco di aziende che io oggi reputo sopravvalutate, anche molto sopravvalutate, giusto per dire alcuni nomi, Airbnb, Fiverr, Tesla. Ma non mi sognerei mai di shortare questi titoli, per il motivo che ho detto prima. Non sono in grado di andare a prendere esattamente il massimo, non è questione di essere bravi nell'analisi tecnica o cose simili. La follia collettiva può andare avanti tantissimo. Come ho detto, ci sono voluti due anni per far sì che Tiscali tornasse al suo vero valore. E due anni per un'operazione ribassista non va bene. Un'operazione ribassista infatti è necessariamente, strettamente di breve periodo. Se noi siamo rialzisti, ad esempio, quindi se speriamo che un titolo salga e questo titolo scende del 50%, beh, noi sì, possiamo venderlo, possiamo liberarcene, tagliare le perdite, ma nulla ci impedisce anche di restare investiti. D'altronde, se riteniamo che ci sia del potenziale, possiamo addirittura pensare di aumentare. Con lo short, però, se il titolo che stiamo shortando raddoppia e quindi stiamo a tutti gli effetti perdendo tutto, beh, ecco che allora ci chiamerà il broker, ci dirà Senti un po', cosa facciamo? O ricompri tutto, quindi copri le posizioni, o te le chiudo io, oppure metti altri soldi. Quindi in quella posizione lì noi non possiamo semplicemente dire Eh sì, aspetto, vedo un po' come va, per ora mi sta andando male, però prima o poi andrà come penso. Sì, ma poi quando? Questo ragionamento si può fare se siamo rialzisti, ripeto, anche un titolo con il meno 80%, attenzione, fatevi comunque due domande se un titolo sta facendo il meno 80%, però possiamo restare investiti volendo. Con lo short no, però. Un'altra cosa negativa è che il rapporto rischio-rendimento in un'operazione short è decisamente a nostro sfavore. Comprando abbiamo un potenziale sostanzialmente illimitato, che è un titolo che non può salire all'infinito, però può raddoppiare, triplicare, decuplicare, può fare 100x volendo. Mentre shortando, se proprio siamo degli dei scesi in terra, al massimo facciamo il 100%, 95 quello che è. Al contrario, però, la nostra potenziale perdita è dall'altra parte, quindi è illimitata, un titolo può salire praticamente all'infinito. Quindi, domanda delle domande, quali titoli ha senso shortare? Perché sì, alcuni titoli, secondo me, ha senso shortarli. A mio parere stiamo parlando di aziende in declino, che quindi non stanno mostrando grandi risultati, che si trovano in dei settori molto in difficoltà. Aziende che non sanno più come o in cosa reinvestire. Queste sono le aziende ideali per uno short. Anzi, forse dovrei dire le uniche. Faccio giusto un esempio, ma non è per un'operazione, non è una cosa che sto facendo, e non ce l'ho con l'azienda in questione assolutamente, proprio per farvi capire. Harley Davidson. Motociclisti all'ascolto, perdonatemi, vi prego. Il fatturato di questa azienda è costantemente, regolarmente in calo da anni. L'utile si è sostanzialmente dimezzato negli ultimi anni, quindi è viva. Guardando il grafico direi che il titolo è tutto meno che amato. E ripeto, attenzione, non sto dicendo che sia un'azienda da shortare, ma sto dicendo che questi devono essere i presupposti per uno short. Non un'azienda che continua a crescere di fatturato o continua a crescere in borsa. Lì ci si fa male. Qua ci si può pensare. Arriviamo al come. Come si shorta un titolo. Il modo più semplice è uno short puro, quindi si vende allo scoperto un'azione. A proposito, non voglio aprire adesso la parentesi su come funziona uno short. Preferirei dedicarci un video, quindi fatemi sapere voi se volete un video su come funziona un'operazione short. In questo caso il vantaggio di shortare un'azienda con questo modo è che è semplice. Se il titolo scende guadagniamo, se sale perdiamo. Non c'è alcuna leva, a meno che noi non scegliamo di andare a margine, ma comunque di solito ci sono da costenere alcuni minimi costi di finanziamento, 1-2%, magari anche meno a seconda del broker. Il rischio in questo caso è che si perda un po' il controllo e che magari un titolo ci giri contro in modo violento e che allora perdiamo un sacco di soldi. Un altro modo di operare è quello di utilizzare le opzioni. Ad esempio possiamo comprare una put, che è una sorta di assicurazione ribassista, in cui guadagniamo se il titolo scende e perdiamo una cifra molto moderata, se il titolo sale o resta costante. In questo modo abbiamo un po' invertito il profilo di rischio, abbiamo impostato un limite alla cifra massima che possiamo perdere, mentre il guadagno potenziale è molto molto alto. Attenzione però, le put, o in generale le opzioni, hanno una scadenza. Non che sia un problema di per sé, perché ho già detto che un'operazione ribassista deve essere di breve, massimo, 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 medio periodo, non certamente tenuta per anni, non ha senso come cosa. Quindi non è un problema che le opzioni abbiano una scadenza, ma è un problema perché dobbiamo capire come gestirla. Le opzioni poi hanno anche un altro svantaggio, che è il costo, costo che si chiama premio e che in un certo senso dobbiamo pagare. Ripeto, è una sorta di assicurazione, un'opzione. E inoltre creano anche un effetto di leva finanziaria che in questo caso dobbiamo saper gestire. Quindi è tutto fuorché roba per principianti. Esistono poi tantissimi altri tipi di derivati che consentono di andare short su un'azione, dei warrant certificates, dei CFD banalmente. Non è importante, è ciò che dovete sempre tenere a mente, però sono le caratteristiche dello short. Quindi che non dovete farlo sulle aziende che abbiamo detto prima e che invece dovete preferirne alcune. Che lo short è temporalmente limitato, non è una posizione di lungo periodo, assolutamente no. E che nel mentre dovrete sostenere un costo. Queste cose, lo ribadisco, con gli acquisti al rialzo non ci sono. Se volete andare long, se volete investire in un'azienda e lo volete fare per il lungo periodo, non c'è nessun tipo di problema. Tutte queste cose che abbiamo detto non sussistono in quel caso. Quindi, mio consiglio personale per chi sta guardando questo video. Secondo me, per la mia piccola esperienza che mi sono fatto, il 95%, 96% delle persone non dovrebbe fare operazioni ribassiste. Sono operazioni speculative e quindi molto molto pericolose. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente lasciate un bel mi piace se avete apprezzato e iscrivetevi se volete vedere altri video come questo. Se in più avete dei suggerimenti per altri video, in questo caso abbiamo parlato dello short, ma ditemi un po' voi, allora scrivetemi tutto qua sotto nei commenti. Per oggi quindi è davvero tutto, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima!